Bene ritrovati gentili telespettatori in una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura oggi abbiamo la cronaca, un'ampia pagina di cronaca e partiamo allora proprio dalla destra Tagliamento in provincia di Pordenone a Darba, chili di droga trovati nella cittadina, nel paese. Un professore, ex sindaco, è stato arrestato, è stata trovata anche una pistola. Ora ci sono le indagini in corso da parte degli investigatori dell'arma che puntano a fare chiarezza su questa particolare vicenda ma cerchiamo di capirle di più nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Ex sindaco e insegnante di lettere in pensione, Roberto Toffolo, 68 anni di Arba, si è dovuto confrontare con la dura esperienza del carcere. L'inchiesta sul traffico di marijuana che il 26 marzo ha portato all'arresto dei coniugi Cleanti e Stefanis Maniotto ha avuto un'aspettata accelerata. I carabinieri dopo aver recuperato 200 kg di marijuana in un casolare tuscano e arrestato due albanesi martedì sera hanno recuperato 5,8 kg di marijuana in un garage di via Manin a Darba. 342 grammi di marijuana sotto un cespuglio vicino all'abitazione dell'ex sindaco e una pistola automatica Vesta 6,35 con un proiettolo e matricola a Brasa la cui detenzione è stata attribuita a Toffolo. I manetti è finito anche Lusien Latai, 31 anni albanese, cugino coinquilino di Smaniotto in via Manin 16 a Darba. Il jeep Rodolfo Piccina ha convalidato entrambi gli arresti ma le sorti dei due coindagati hanno preso due strade diverse. Latai, reo confesso, resta in carcere perché potrebbe scappare e ristabilire i contatti per i fornitori di droga. Toffolo, che lo stesso Latai ha scagionato in relazione ai 5,8 kg di marijuana, è stato liberato. Il jeep ritiene che fosse consapevole dello stoccaggio di stupefacenti in luoghi di cui lui stesso aveva la disponibilità ma non siano emersi gravi indizi per sostenere che avesse anche lui un ruolo nel traffico di stupefacenti. L'avvocato Alessandro Magaracci, di Mensia, il coinvolgimento di Toffolo e il professore, spiega da tempo aiuta la famiglia Smaniotto, la quale ha affittato alcune stanze di sua proprietà, ha stretto un legame di amicizia senza rendersi conto di quelle che potevano essere le conseguenze. Toffolo e gli Smaniotto abitano in una corte comune in via Manin, nel retro della sua abitazione, a una tettoia dove in un armadietto è stata trovata la pistola clandestina che Toffolo, pur dichiarandosi estraneo, ha ammesso di aver maneggiato quando Smaniotto gliel'ha mostrata. I 342 grammi di marijuana erano sotto un cespuglio vicino alla casa dell'ex sindaco e i 5,8 chilogrammi erano stipati in un garage di via Manin 1 dove Toffolo metteva la sua auto e di cui Smaniotto e Latai avevano la chiave. È proprio in quel garage che sono spuntati i chilogrammi di marijuana. Era un bambiam, ha detto Latai. Erano nascosti in un grosso bidone di plastica blu e in un borsone. I sospetti sul potenziale coinvolgimento di Toffolo nascono da alcune intercessazioni telefoniche. Gli investigatori lo sentono mentre suggerisce ai due albanesi, che non trovano più la chiave del garage, di buttare giù la porta. Sapeva che dentro c'era la droga? Durante la convalida dell'arresto, Toffolo ha negato. Sostiene che non sapeva che il garage fosse diventato un deposito di droga, ma allo stesso tempo ha visto, mentre bidone e borsone venivano sistemati nel garage, tanto al momento che il sequestro ha chiesto i carabinieri, se avevano trovato stupefacente. Martedì, quando gli investigatori gli hanno chiesto quali fossero gli immobili che usava, non ha detto nulla del garage di Via Manin. La chiave ce l'aveva Latai, l'ha consegnata, i carabinieri hanno alzato poi il basculante e in fondo l'autorimessa. Hanno trovato i pacchi di marijuana. E ancora la cronaca un po' particolare che arriva da Maiano. C'è chi disturbava, a quanto pare, il vicinato tenendo alto il volume della televisione. E a nulla sono servite le ripetute richieste di abbassarlo da parte degli altri condomini. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione che hanno poi denunciato in stato di libertà per il reato di una 42enne. Si tratta di una donna, una rumena, residente ad Maiano. Ai militari intervenuti la stessa si è rifiutata di declinare le proprie generalità offendendoli e a quel punto è arrivata la denuncia appunto perché non abbassava il volume. Ora andiamo al capoluogo di Regione, a Trieste. 5 tonnellate di minerali radioattivi scoperti nel porto. C'è un'inchiesta per cercare di fare chiarezza su questa particolare scoperta. Sentite. La procura di Trieste ha aperto un'inchiesta e procede contro un gruppo di persone per un misterioso arrivo nel porto di Trieste tre settimane fa di 5 tonnellate di coltan, minerale radioattivo proveniente dal Venezuela. La magistratura, secondo quanto si è preso, ipotetizzerebbe comunque un reato di natura contravvenzionale che fa riferimento a un articolo sull'impiego pacifico di energia nucleare. Vale a dire che nella etichettatura del container non è stato inserito il simbolo della radioattività. Su disposizione della magistratura la guardia di finanza avrebbe compiuto alcune perquisizioni, mentre a Palazzo di Giustizia sarebbero già stati ascoltati numerosi testimoni. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiedere la vicenda e soprattutto la regolarità dell'importazione. Del carico diretto in Italia aveva parlato il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, mesi fa a un'emittente pubblica venezuelana, poi però non se ne è saputo più nulla. La deputata del PD, Deborah Seracchiani, aveva presentato anche un'interpellanza ai ministri delle infrastrutture, dei trasporti, delle economie e finanze e degli affari esteri, pretendendo di chiarezza sui rapporti tra Italia e paese sudamericano. Il coltan è un materiale fondamentale nella produzione di apparecchi elettronici avanzati. Ancora cronaca, andiamo a Udine. I carabinieri di Rivignano Teora hanno denunciato un 24enne e una donna 61enne, nonché una 22enne. Sono tutti di etnia Rom, i quali con una scusa si erano introdotti nell'abitazione di un'anziana e mentre una la distraeva, un altro ha approfittato per rivistarla in casa. Sono stati sorpresi però dalla figlia della vittima, i due sono scappati a bordo di un'autovettura condotta da una terza persona. A Prata invece c'è una particolare offerta da parte di un'azienda che ha deciso di aiutare una famiglia perché ha avuto un bambino. In un vestimento insomma privati a quanto pare per cercare di dare una mano a chi cerca di fare una famiglia, tutto con le congratulazioni del primo cittadino che trova in questo modo un appoggio anche dai privati. Aldo Curtarelli è andato a sentirlo. Siamo con il sindaco di Prata, Odorino Favot, qui nell'agenzia Euro Interim per una giornata speciale. Oggi l'agenzia e un programma loro come azienda hanno dato un contributo di 1000 euro a una coppia che lavora con l'azienda, in questo caso sono lavoratori interinali, perché hanno fatto un figlio. Un suo pensiero su questa iniziativa poi un po' particolare? Innanzitutto come amministrazione comunale sono ultra soddisfatto e orgoglioso di questa iniziativa che non si trova certo così facilmente e devo esprimere tutta l'ammirazione per Euro Interim perché ha saputo cogliere nel segno di quella che è l'esigenza al giorno d'oggi, cioè quella di cercare di far contemperare quelle che sono le esigenze di lavoro con i tempi di cura. Infatti esistono anche delle normative che parlano di tempi di cura e tempo di lavoro. Allora se un'azienda come questa che è importante, che sta facendo un percorso importantissimo e parlo in modo particolare della mia zona, riesce anche a prevedere queste somme per queste famiglie, credo che si sia fatto tantissimo e che c'è un grosso impegno da parte della proprietà. Ecco noi siamo in una zona dove il lavoro, adesso c'è un po' di crisi ma c'è stato un momento insomma che il lavoro non mancava, anzi diciamo un momento molto buono per le famiglie. Questo un po' si è perso anche la possibilità di fare figli per tutta una serie. Oggi noi dobbiamo ripensare un po' il momento, dobbiamo ripopolare un po' la nostra Italia e dobbiamo capire che il lavoro diventa una cosa meno importante di un figlio, se vogliamo comunque poi continuare a vivere nel futuro. Sì, sono perfettamente d'accordo su questo concetto. Ovviamente bisogna un po' fare massa critica, un po' tutti quanti e mi riferisco in modo particolare a tutto ciò che è il contesto delle norme ma soprattutto io mi riferisco a quello che è il contesto della regione e in questo caso del comune. Anche noi nel nostro piccolo ci stiamo dando da fare, da un lato sia per cercare di rendere le scuole più accoglienti e sicure dal punto di vista proprio strutturale sia anche prevedendo degli incentivi per le famiglie. Quindi su questo ci stiamo mettendo la testa, le risorse e i nostri progetti proprio per aiutare le famiglie a crescere e magari possibilmente anche ad attrarne di più come numerosità. Ecco oggi noi che con il nostro lavoro abbiamo l'occasione di incontrare praticamente tutti i sindaci, le amministrazioni e i vari livelli, c'è veramente un impegno ormai da tutte le amministrazioni verso questa attenzione alle famiglie e poi non gli ultimi avvenimenti che sono stati in questi giorni, le polemiche eccetera, però la famiglia è al centro della società indipendentemente poi dalle sfumature. Ma assolutamente sì, adesso non voglio assolutamente iniziare nessuna polemica di carattere più o meno politico, però è chiaro che la base, la fondamenta, il necessario affinché ci sia veramente il futuro per la nostra società non solo in termini lavorativi ma in tutti i sensi deve e non può che essere la famiglia, quindi sono perfettamente d'accordo. Allora ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, torneremo con le altre nel corso della nostra programmazione. Ci fermiamo intanto con questa edizione, buon proseguimento a voi tutti, vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 a risentirci. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!